Allora, una cosa da dire su questi giorni in cui ci sentiamo un po' come lui che gira e che gira su se stesso. Questo è un giocattolo magnifico con cui giocano i figli degli indiani del Mangala ed è, come vedete, un magnifico oggetto di foglie di palma. Un oggetto quotidiano. Allora perché vi parlo di questo? Perché in realtà in questi giorni strani di virus una delle cose che ovviamente sta tornando importante è il modo in cui passiamo la nostra vita quotidiana. Cioè la quotidianità che per certi versi è una grandissima cosa, per altri versi possa essere anche profondamente frustrante, noiosa, ripetitiva. Però una delle cose che ho capito in questi giorni probabilmente è che in realtà c'è una grande forza nella vita quotidiana ed è qualcosa che ha a che fare molto con la nostra capacità di invenzione, ma anche qualcosa che non è individuale, ma qualcosa che è questa costante capacità delle società, cioè della gente che vive nello stesso posto, di inventarsi continuamente nuove regole di vita. Cioè una delle cose interessanti di questi giorni è che nonostante quello che dicono i politici o i media, in realtà la gente si inventa, si adatta, si trova nuove maniere non solo di starsene in casa, ma trova anche nuove maniere di continuare a relazionarsi con gli altri. Quindi questa è una delle cose che per me è importante perché è molto importante capire che la società non è fragile, cioè che noi siamo abituati a pensare che la società sia una massa indistinta di persone e che soltanto i politici o i media o il capitale in realtà gestisce la vita della gente, cosa non vera. Gli antropologi sanno perfettamente che invece la vita della gente è gestita da una creatività di fondo che c'è in tutte le società, cioè che noi chiamiamo come antropologi cultura e che è appunto questo stranissimo legame che la gente rinventa costantemente dando delle regole quotidiane che però sono molto elazzi, che non hanno niente a che fare con la morale ma hanno a che fare con una capacità di galateo in qualche modo, cioè di vivere insieme agli altri senza fargli male, senza farsi troppo male. Allora, tempo fa ho scritto insieme a Piero Zanini, questo non c'entra nulla, ho scritto insieme a Piero Zanini questo libro che si chiama Una morale per la vita di tutti i giorni, per la vita quotidiana che è stato tradotto immediatamente negli Stati Uniti a Chicago e che è un testo che racconta appunto come la gente se la cava, come la gente di un villaggio africano come la gente di un aggregato di eschivesi, come la gente di vari posti del mondo si dà delle regole per poter convivere in maniera decente, in una maniera che non sia costantemente minacciata dall'esterno quindi allora, molto spesso queste regole sono regole strane, sono regole che cambiano da società c'è una società nel Madagascar che ha delle regole assurde, noi le raccontiamo per esempio non si può mangiare il miele sorridendo, non si possono indicare le balene con dito e cose di questo tipo loro stanno sul mare però fondamentalmente quello che è importante è che la gente riesce a inventarsi delle regole e a cambiarle a seconda delle evenienze difficili o facili a cui si trova incontro allora, tutto ciò serve semplicemente a dire che dobbiamo avere molta più fiducia nella capacità di rinnovamento della società non solo, ma dobbiamo anche credere che la creatività, che c'è una specie di autopoiesi della società la società si crea da sola, non ha bisogno di gente che la inventa costantemente si crea le sue storie, si narra in qualche modo e tutto ciò è molto interessante e positivo è studiato dall'antropologia, ma lo potete rimarcare anche voi quotidianamente Grazie a tutti